Dopo due anni di stop per il Covid riparte la Sagra del Timballo a Floriano, un grazie particolare va ovviamente a tutta l'associazione di Floriano che organizza magistralmente come ogni anno questa bellissima sagra, al mio assessore Melissa Galli che coordina i rapporti tra amministrazione comunale e associazione in una location che ci tengo sempre a dirlo molto bella, piena di verde dove anche i bimbi possono comunque stare nella massima sicurezza e trascorrere una bellissima serata. Io credo che questa Sagra del Timballo insieme alla Sagra della Porchetta e la Sagra del Tartufo di Campli valorizzi tantissimo il nostro territorio, sono sagre che hanno sempre un grande successo e in un periodo come quello attuale non è scontato comunque portare tante persone sul nostro territorio, in un periodo dove molti sono sulla costa e invece noi dell'interno cerchiamo un po' di farli trascorrere una serata diversa, sempre in allegria con la degustazione di prodotti che fanno parte oramai della nostra tradizione culinaria terramana. Una città che c'è, una città dinamica che scommette proprio sul rilancio dei territori, una traccia che il BIM ha messo nelle proprie linee programmatiche, non solo arte culinaria ma anche molta cultura. Una lode al sindaco Agostinelli e alla sua amministrazione perché l'indirizzo che il BIM vuole dare insieme ai propri sindaci è proprio questo, rilanciare i territori che vivono un momento di difficoltà dopo l'effetto pandemico che insomma stiamo cercando di dimenticare. La strada giusta è proprio quella che sta tracciando Campli questa mattina in conferenza stampa.